Ma salve! Volevo informarvi di un paio di cose. La prima è che ho fatto un video per YouTube che dura 26 minuti. Secondo voi lo dovrei dividere a metà e fare due video da 13 oppure no? Fatemelo sapere. Grazie. Ma salve! Siamo qui in un nuovo video e finalmente faccio un video dedicato allo zodiaco perché posso quasi dire di riuscirlo a chiudere in solo. In realtà sì, però c'è da fare un appunto che senza gale mi risulta parecchio difficile. Ci sono tante accortezze che dovrò sistemare, vi farò vedere l'equip passo passo e faremo un attimo il riassuntino preso da una live dove facevo zodiaco. Non lo facevo in solo ma fare un video dove registro e ho pure 8 clienti insieme mi va a far esplodere il computer. Quindi, ciancio alle bande e andiamo subito al video. In sé. E qui. Ok. Questo è il PG, lo sapete, lo conoscete già. Facciamo un attimo un check al volo di qua. Allora, questa è una delle cali che uso di più, che dura 7 giorni e aumenta il danno contro mostri del 30%. Mi aiuta parecchio. Poi ho anche il Minidal, che è anche quello da 20 o 30, se non sbaglio 20. 20 per 15 giorni, che si può prendere dallo shop e vi faccio pure vedere come. E niente, questo anello esce dagli ok, ok argento, non è troppo difficile da farlo uscire in media, dopo una ventina dei bauli dovrebbe uscire. Poi si può essere estremamente sfigati o estremamente fortunati. Detto questo, ripassiamo al video, sì al video, ripassiamo all'immagine del gioco, perché se no perdiamo troppo tempo. Allora, come vi ho detto, questo è il personaggio. Un'altra, chiamiamola cala, potrebbe essere il fatto di avere i costumi, perché c'è gente che non ha addirittura i costumi per fare zodiaco. E a parte che sto trasformato da lupo grigio alfaffamato, però vabbè, dettagli. Allora, il mio setup per i piani dal primo al 29 è in full danno. Anzi no, in realtà tutti i piani li faccio in full danno, più o meno, perché alla fine se si ha tanto danno, che se non sbaglio se fate critico trafi come massimale diciamo sopra i 18, potete permettervi di stare in full danno. Se non ci avete troppo danno, fate uscire più mob dai metin al 29 e al 15 e avete grossi problemi. Perché se fate uscire i mob e non buggate le mobbate, escono i boss e vi sciottano perché fanno tanto danno. Quindi, uso delle scarpe fuoco più 6 con 2000 HP, 5 critici, manco full. C'hanno un po' di stun e c'hanno un po' di freccia che non c'entrano niente, però va bene uguale. Dopodiché c'ho una cintura anime più 6 senza slot, quindi niente di incredibile. Una cosa che potrei andare a migliorare è il talismano, che uso questo momentaneamente, che c'ha 3 difesa che può essere utile, perché come già detto in passato va a diminuire il danno che subite del 3% da ogni singolo mob. Resistenza caduta 20 che è quasi obbligatorio per fare la scalata, in realtà dovrebbe bastare 16, però se ce ne avete 20 state sicuri al 100% che non vi buttano per terra dal cavallo. 20 zodiaco, questa è la statistica che sarebbe da migliorare, cioè averci invece il 20-30, che può uscire, e vi va a aumentare notevolmente il danno. Dopodiché, il guanto che può essere messo in combo con il talismano per andare a parare il 16 o 20 caduta, io c'ho solo 6 ma c'ho 10 assorbiti e l'avevo girato così e me lo so tenuto così. Dopodiché, c'ho il glaive che abbiamo upato in live, che avete già visto, 38 medi, 10 diavolo, 5 stun, 3 veleno e 35 valore d'attacco che è uscito così senza farlo girare niente. C'ha pure un 20 valore d'attacco base più un 18 ghiaccio, con il più 3. E poi c'ho 15 lampo e 2000 HP 3 assorbiti, che potrei andare a averci un po' di assorbiti in più, però effettivamente non mi fate cambia sta corazza. Poi c'ho un bracciale con 5 assorbiti che si potrebbe sistemare, 15 lampo e va benissimo, e 1500 HP, però va benissimo così. La collana top per Zodiaco, anche se non è proprio perfetta perché sopra non è girata bene, perché c'ha danni d'attacco da boss, quindi voi fate il 5% di danno in più su Metin dello Zodiaco, perché sono considerati boss. E poi anche il boss stesso. Questa è stracomoda perché dà 20 trafi di base, senza contare slot mesi, che vi va a aumentare il danno che fate, perché al 34 vi servirà avere tanto trafiggente, quindi se avete pure una ruggiata rosa vi può essere utile, che è quella che dà trafi. Dopodiché, smeraldi, orecchini smeraldi con, vabbè, più 8, alla fine solo quello vi interessa, poi se avete valore d'attacco meglio ancora come sesto e settimo, però non è il mio caso. Uno scudo più 9, che ha 15 blocco, che pure quello è abbastanza utile qua, potrei avere forza per aumentare i danni aumentando il valore d'attacco di aura. E poi c'ho questo elmo con 15 lampo e 15 vento, che non serve, ma punti karma, ma non è il berserker, ma è il re sabbi. Questa è l'unica cosa che c'ho con il re sabbi durante i piani prima del 34, perché praticamente c'ho questo equip e i smeraldi, che non so perché non li avevo messi mentre mi ero trasformato da lupo. E praticamente scalo con questa roba qua. Con l'aggiunta ovviamente dell'alchimia, e sì, questo può essere un po' difficile da reperire, però mi aiuta parecchio. E vi posso dire la verità, da quando ho preso questo, attivando l'alchimia, mi da 19 solo del rest lampo questo, che è parecchio. Quindi, murale della favola, c'ho l'alchimia mitica opaca, questo sì, è chiaro, ma dà solo uno in più del rest sabbi. Comunque, il consiglio che vi darò è aumentare il più possibile i danni con il 30 zodiaco, con il minidal che dà 20 mostri, con un piccolo boost che può essere o l'anello potenza letale che vi ho fatto vedere prima, oppure il nazar, oppure lecca lecca, ce ne stanno altre che danno mostri o che danno bonus berserker che vi possono aiutare per far più danno. Quindi, ora facciamo un attimo un piccolo riassuntino vedendo una parte di una live dove scalavo zodiaco, velocizzata, e spero che riuscirò ad essere abbastanza chiaro, a parte la voce che va via. Allora, siamo qui, primo piano, qui in alto, oh, che cazzo ho fatto? Oh no, tutto a posto, nel primo piano non è molto difficile, anzi, mettiamo un attimo pausa. Qui in alto a sinistra c'è le sfere che vi servono, che avete accumulato, che è un massimo... Vabbè, non è molto importante, è molto succulento da parlarne, però il piano effettivo dove siete è quello in giallo, che siete piccolo piccolo qua, e avete un minuto, di solito, per saltare a non superare il piano e fare dall'1 al 2, ma per saltare dall'1 al 6. Quindi noi ci sbrighiamo a uccidere tutti i mob, cosa essenziale e importantissima che ci sono determinati piani in cui non possono morire. Se portate VG Scrocchi, mandateli in cambio a VG. Io sono uno di quelli che cerca sempre di mandarli in cambio, perché poi, quando ho iniziato a scalare da solo, mi sono ritrovato avvantaggiato a saperli cambiare velocemente e averci i personaggi protetti e non morire. Quindi, i piani importanti da sapere sono il 6, che se morite andate a quel paese, il 12 e il 19. Questi sono i tre piani a rischio. Poi c'è un altro piano a rischio che, se non sbaglio, è il 22 o il 21, non ricordo. Ci sono altri due piani che sono un po' a rischio per perdere i VG, non per perdere la scalata. Perché c'è la possibilità che, per la fretta, una cosa e un'altra, lasciate i personaggi a terra e salite, e non fate in tempo a rianimarli per salire. Un'altra chicca, cosa importantissima, se i personaggi hanno i prismi del risveglio, quindi le cose che permettono al PG in zodiac di rianimarsi, cercate di cliccare su Rinasci qui prima di dover salire. Quindi avete solo un tasto da cliccare dopo per rianimarli di fretta. Quindi, in poche parole, voi non dovete cliccare rianima qui, sei sicuro di voler spendere X prismi per gamene del risveglio, là come cavolo cazzo si chiamano? Clicchi solo là e lo porti su. Quindi non devi cliccare, rinasci qui e poi sei sicuro di voler usare questo. Mo' vedremo se morirò e ve lo faccio vedere in particolare. Quindi questo piano si cerca di lasciare per farlo più velocemente possibile. Ah, piccolo consiglio, se scalate in duo è molto più tranquilla. Come potete vedere siamo solo due persone in gruppo, perché abbiamo mandato tutti i PG in cambia. Dopo aver spostato il boss zodiaco dopo i due metin, si riloggano i PG. E quindi ritorneremo con il party full. Come potete vedere, a parte che sto scalando ancora con l'equip sbagliato, e me lo sto a cambiare adesso. Ok, ho messo smeraldi, lacrime, sia bracciale che collana. E poi non ho, in questo caso, non ho il talismano. Sì, il talismano, l'anello potenziale tale. Quindi faccio un po' meno danno. Se non sbaglio, proprio in questa scalata faremo il metodo più safe. Quindi la tecnica più safe per scalare e non averci troppi problemi. Come vi ho detto, servirebbe fare 18k di danni. Confidatevi che con solo quell'oggetto, più il minital, come potete vedere, non è che ho altre cose, cale, attacco dio drago e roba. Arrivate tranquillamente a... almeno se avete più o meno l'equip mio, arrivate a 18. E arrivare a 18 vi permette di schippare un sacco di mobbate. Allora, fino adesso è tutto abbastanza semplice. Non c'è niente di particolare da aggiungere. A parte io che sto a parlare a bomba e quindi non c'ho più fiato. Ok, questo è uno dei piani bonus. Che è considerato il piano cesso. Quindi se portano tutti i pg e se lasciano a menà la statua, intanto se fa sempre uno di danno. Se siete War Corp a 3 minuti fate aura e così almeno quando finite di distrugere tutti i metri, se accadute tutti i metri, ne li distruggete tutti, potete rifare aura al momento esatto. E così siete pronti per affrontare il piano 15 che potrebbe essere il primo problema effettivo della scalata. Andiamo un po' avanti. Adesso ci castiamo, quindi ci buffiamo, ci mettiamo aura e tutto quanto. E ci apprestiamo per fare il livello 15, quindi ci buffiamo. E io di solito mando in cambio a pg i pg per non aver problemi dopo a dove gli restate corse e fa tutte cose. Però se li mandi in cambio a stai più tranquillo. Adesso, piccola cosa importante. Qua io di solito non li faccio al centro perché mi muoiono i pg. Li porto in un angolo, li riloggo e poi uccido i mob che c'ho. Che so, i mob, aspettate, i mob che ci avete addosso, che stanno già nel piano, una volta uccisi fanno uscire i medin. Quindi se li uccidete in un determinato punto e li incastrate bene, torniamo indietro, dovevamo distrugge 5 rocce. Se uccidete i mob velocemente e spawnano nello stesso punto 2-3 medin, li spaccate subito tutti e 3. E fate, nel senso, ne servivano 5, li spaccate tutti e 5 e salite subito. Ok, procediamo. Ok, e come potete vedere siamo saltati direttamente oltre il piano, non vi ho fatto vedere che abbiamo saltato prima il 12, un po' senza problemi perché sono abbastanza semplici quei piani, ma questo è il piano che se fatto in maniera veloce vi permette di saltare il piano a rischio che è il 18. Se non siete troppo veloci a fare questo, non saltatelo proprio, fate 15-16, che il 16 è un po' più semplice e se lo fate in fretta riuscite a saltare comunque il 19 che è a rischio per i pg che vi fanno fallire la scalata perché di solito si portano pg che possono stare solo in gruppo e servono per comprare le cose alla fine. Comunque andiamo avanti. Siamo al piano 20. Oh, qua una cosa importante, questo è uno dei piani più rompipalle di tutti per una dinamica. Come potete vedere ci sta scritto sconfiggi qua in alto, sconfiggi 8 boss. Per sconfiggere i boss non ci stanno i boss in questo piano, escono solo dai made in buffalo, ok? Se voi fate i made in buffalo, attaccate i diretti e lo spaccate, se avete tanto danno, buggate le mobbate e non escono i boss. Quindi il consiglio che vi do io è rimanere attaccato al made in, ovviamente se lo reggete, e date una spadata ogni tanto in maniera tale da non far troppo danno tutto insieme e far uscire le mobbate regolarmente senza baggalle. Vediamo se lo faccio. No, attacco come uno scemo, ne sono uscito in secchio dei boss. Ne ha fatti usciti altri e tanti pure il caro Filippo. Vediamo se in questo caso è pure morto il grande Filippo. Ok, l'ho arrestato al volo e mi ho spaccato il made in. Ecco, adesso lo sto a fare sta tecnica. Faccio un paio di spadate e mi fermo, un paio di spadate e mi fermo, un paio di spadate e mi fermo per far uscire con calma le mobbate. Mo' mancano due boss e un made in solo. Se fate uscire con calma le mobbate, riuscite sicuramente a finire il piano in tempo. Vediamo se capita questa l'occasione. Ah no, ce n'è un altro dei made in. Non ne è uscito nemmeno uno del boss. Nel caso non vi escono tutti i boss, non vi disperate, dovete distruggere tutti i mob sul piano rimasti. E a 5 minuti usciranno nuovamente i made in bufalo. Però dovete stare qua a aspettare tanto tempo. Ok, uno è uscito, due sono usciti e noi me ne amo come scemi perché siamo riusciti a completare l'obiettivo del piano. Questo è un piano bonus. Ok, ora c'è il 22 che è quello che mi sta un po' sul cazzo, che è quello dei boss. Io mando in cambio a pg su sto piano, così non ho i mob e i pg da rianimare. Se vedete stiamo in 5 in parti perché i miei 3 li ho mandati in cambia. Ci spostiamo, lui cliccherà su rianima su tutti i pg. Io invece li riloggo e basta, e stanno già in piedi. Col fatto che mi sono spostato basta uccidere i mob, i boss, scusate, i 3 boss e si sale. Ok, e saltiamo dal 22 al 27 che è un bel salto, fidatevi. E il 27, anche se io vedo che sto al 22 qua, è quello dove perdo, molto probabilmente, perdo le cose. I pg è quello che mi fa avvelenare parecchio perché di solito dice distruggi 5 metin, distruggi il metin, tu ti distrai, distruggi il metin, non rianimi i pg e rimani fregato. Non so se è questo il caso, molto probabilmente sì. No, sono riuscito a darti animali tutti, però io li ho bruciati 2 a lui. Ho fatto la cazzata e io ho fatto scendere 2 pg a lui. Quindi ricordatevi che prima di saltare di piano dovete tirare su tutti i pg perché se saltate poi rimanete con i pg a terra. Ok, adesso questo è il piano bonus. Fatti i metin, no ancora no. Ci siamo castati, buffati e quant'altro, quindi stiamo a spaccare tutte le cose. Ok, stiamo all'ultimi 2 metin. Ok, io mando un cambio a pg. Forse. Il 29 è il piano più difficile dei tutti. Adesso ci sposteremo. Schiaffeggiamo un po'? No, dipende. Di solito se non stiamo vestiti troppo bene, anzi no, proviamo la tattica. Allora, qua ci sono due modi di fare. O uccidere i mob piano piano spostandovi, così i metin cadono in posti diversi. Oppure fare come stiamo facendo noi adesso e ci mettiamo nell'angolo e cercamo di vince, chi la dura la vince. Se fate il metodo che vi ho detto prima, cioè che li uccidete spostandovi, il consiglio che vi do, se siete in due a maggior ragione, cliccate col mouse l'autoattacco sul metin in modo tale da lasciare il pg che attacca fin quando non scoppia il metin. Così, quando uccidendo i mostri, alcuni mostri vi ricadono altri metin addosso. Se distruggete il metin, cadranno sicuramente tanti metin. Se rimanete come scemi a preme su spazio, attaccate gli altri metin e probabilmente fate uscire tanti boss e probabilmente rovinate il piano. Perché se ci stanno troppi boss in giro, è più difficile reggere. Quindi, vediamo un po' come procede. Giuro, regà, non me la so vista sta scalata prima di vedere, però so solo che facevo zodiaco, quindi ci ho provato. Io so, è rimasto fermo come uno scemo perché probabilmente mi hanno stunnato. E non so perché ho il malus di Yoara, non lo so, non me lo chiedete. Avrebbe... Sarebbe stato più semplice se facevamo il metodo più safe, insomma, di andare piano piano. Però vabbè, i danni ci stanno, quindi se non colpite troppi metin e non fate un casino. Se può fare. Occhio, soprattutto, se c'avete lo spadone, se c'avete lo spadone, fate un casino. Cliccate praticamente mille metin, spaccate, colpite mille metin. Mo' mi sono rianimato tutti i pg, stanno tutti in piedi e sono salito. Invece che al 34, che se poteva arrivare direttamente al 34, che è il piano finale, quindi da combatte, siamo arrivati al 33. Configgi tutti i mob, lui si li sta incastrà. Vabbè, questo è un piano abbastanza semplice. Ah, comunque, nel piano precedente, nel 29, può capitare che vi dice straculo e ci esce 100 mob. Uccidi 100 mob, penso che con due metin o uno riuscite a completare la missione. Quindi, easy 34, proprio. Vabbè, facciamo tutto sto metin. Ecco, qua, più o meno, al 34, c'è una cosa simile al 29. Sconfiggi 80 mob. Noi ci mettiamo addosso ai topo, anche se conveniva farne uno alla volta, invece che doppio. Però basta distruggere uno e fate i 100 cosi. I 100 mostri. Adesso, fortunatamente... Ecco, qua vi do un consiglio spassionato. Se non ci avete troppi danni, se non lo reggete troppo, non vi fiondate mai subito sopra il cannone. Perché se il boss ce l'ha con voi, il boss cammina sopra al cannone e lo rompe. Il cannone vi toglie tipo 10% di HP del boss, quindi riuscirlo a fare e non perderlo, che quindi ci cammina sopra e lo rompe, è l'ideale. Quindi, spostatevi prima, vedete chi è che ha l'aggro, si dice, chi viene inseguito dal boss, e dopodiché attaccate il boss e qualcun altro va a fare il cannone. Quindi, semplice. Se non lo reggete, potete correre come scemi e cercate di fare più danno possibile a cannoni, senza perderli, ovviamente, e chi, se deve reggere il boss, non muore, perché sennò va in giro sto boss, maledetto, e cercate di fare più trafiggenti possibile se fa più danno a sto boss. Quindi, c'è chi dice, scusate, è rotto, c'è chi dice che riconnettendovi, facendo cambi APG, riconnettendovi ci avete la possibilità di fare più trafiggenti. Secondo me è un po' una cazzata, però vabbè. I buff vi aiutano un po' con i critici, e Benedizione è un minimo via bassa al danno che subite, però, comunque, ci serve una sessantina di res sabbi per reggelo. Un'altra kick che può essere utile da fare per reggere bene qua, è invece il leone nero, che diminuisce, se non sbaglio, sempre dei 5 o 10 il danno che subite. Tipo, come il bonus che esce sul talismano, e quello dei rametti Zerkova, è la stessa cosa all'incirca. Un'altra cosa utile per poter reggere bene qua, e mette anche altro lampo, e una cosa che non vi ho fatto vedere, che vi farò vedere tra poco, è comunque il totale dei lampo che ho. Quando faccio la collana, in questo caso potrebbe essere utile, però vi andate a perdere tanto danno dai trafiggenti che escono dalla collana. Quindi qua si fa un po' su e giù, chi muore di più, chi muore di meno, e poi, andiamo un po' più avanti, parecchio più avanti, ok, è quasi finito. Vabbè, abbiamo 4 minuti, il cannone salamo sparerà e si sale di piano. Ok, rialzo Kaido e se schippa. Adesso, questi sono dei piani che funzionano con, diciamo, scegli il metting giusto tra cane e scimmia. Non ci stanno combinazioni, non ci facciamo grandi problemi a riguardo, non pensateci troppo, perché secondo me è tutto culo. Le potete scegliere. Tra questi due metting, in base a quello che distruggete, avete un bonus di insegne e ideogrammi. Quindi, voi spaccate le insegne, sì, spaccate le insegne e spaccate i metting, e poi se arrivate al 29, se indovinate il metting giusto, avete ancora più culo, perché avete fatto, a scalata fino al 40, e ci avete altre cose. Arrivati al 35 comunque, avete il baule zodiaco, che è il baule d'oro zodiaco, che vi fa uscire le maledettissime stole, le armi zodiaco, le armature zodiaco, e se non sbaglio pure core dragonis, pozze, sfere trasformazioni dello zodiaco, e altre cose poco utili. Quindi, mo spaccamo un altro po' di metting, e non abbiamo fatto il 40. e spero che ci sia, in questa stessa, aspettate, stiamo a fare un altro, sconvedo al volo. Ok, qua c'è uscito i, al 29 c'è uscito i 100 mostri, quindi strafortunati, perché i 100 mostri, se fanno sicuro, infatti abbiamo fatto il 34. Mo salto un attimo, sta parte del boss, datemi un attimo, perdonatemi per questo dilungamento, ok, 35, abbiamo fatto un altro baule zodiaco, più i 4, più i 3, sull'altri PG, che stanno scroccando, ok, io me sto a passare i soldi, sui cari PG, 36, 38, 39, e niente, manco stavolta al 40, vediamo se ne faccio un'altra, si ne faccio un'altra, e vediamo se facciamo, sto maledettissimo 40, questo comunque è la, è la, la croce del zodiaco, cioè, riusci a fare il, il maledettissimo 40, perché vi faccio vedere, quello che esce, ok, rieccoci, c'è stato un taglio, che non finisce più, perché non trovavo, una maledettissima, scalata fino al 40, mi passo i soldi, e grazie anche alla chat, che, il pool, che faccio, su quale medine scegliere, riusciamo ad arrivare al 40, ma soprattutto, vi faccio vedere, l'NPC più importante, di tutta sta cavolo di cosa, aspettate un attimo, ok, aspetta, aspetta, fermo, fermo, fai piano, ok, allora, non so se si vede decentemente, ma c'è, i prismi del risveglio, la pergamena qua sotto, in basso a destra, e vi ricarica, le ingressi, per il tempio dello zodiaco, e le varie insegne, la scatola frammenti, ve la sconsiglio di comprare, perché i frammenti, almeno su Italia, sono scesi di prezzo, in maniera incredibile, allora, ogni 50 insegne, di ogni tipo, vi danno, o i cofanetti rossi, o i cofanetti, blu, i cofanetti rossi, sono quelli più costosi, facendo una scalata, con un PG, e portarlo al 40, sono all'incirca 80 cofanetti, e fate questo, per quanti PG vi portate, e capite quanti soldi, ci riuscite a fare, se lo fate, con il massimo numero, dei PG, dovete stare attenti, che qua in alto, ci avete solo 5 minuti, per riuscire a comprare, con tutti, cosa importante, da aggiungere, se fanno massimo, pesaggio, facendo un calcolo, approssimativo, 640 cofanetti, questi cofanetti, vanno ad aggiungersi, alla probabile, ricompensa, pure delle stole, che vi permetteranno, di fare una stola, con una percentuale, nel senso, fare una submisura, vi permette di fare, soldi extra, soldi extra, oltre a questo, come vi ho già detto prima, c'è la possibilità, di trovare armi, zodiaco, che se escono, con alti medi, ovviamente valgono, detto questo, penso che abbiamo detto tutto, vi lascio all'ultima parte del video, a dopo. Questo, penso di averci tutto, con lampo, effettivamente, perché i costumi ce l'ho, sì, che so, 15 lampo e 15 lampo, niente di incredibile, ah, non vi ho fatto vedere la stola, ma non c'ha lampo, c'ha 88, 132, e 8 fuoco, e 7 medi, non, no, 3 fuoco e 7 medi, sì, ok, ho detto bene, e non c'ha grandi altre cose, non c'ha punti karma, non c'ha rocce metina, non c'ha niente, però se io vado ad attivare l'alchimia, e vi faccio vedere il valore, di tutto, c'ho, principalmente, naturalmente, dove era, resistenza ai danni abbi, eh, no, no, c'ho l'equip sbagliato, vabbè, c'ho 36 durante la maggior parte della scalata, e mettendo le scarpe fuoco, ah, che bello, mi si è tolta la trasformazione, così posso cambiare l'equip, mettendo le scarpe, sì, le scarpe fuoco, le scarpe oceano, gli orecchini rubino più 8, con i slot, arriva a 52, che non è perfetto per reggerlo, il 34, eh, ma almeno, se, potete riuscire, al massimo tirate qualche full, e, oltre a questo, se potrebbe aggiungere, andiamo a vedere quanto lampo c'ho totale, al momento, 94, se aggiungo la collana rame, arriva, aveci 108, che, per reggerlo ancora meglio, quel boss, va bene, però perdete tanto danno, comunque, eh, ciancio alle bande, e bando alle ciance, io ho detto più o meno tutto, spero che questo video sia stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così, fatemelo sapere nei commenti, fatemelo sapere con i like, e ci si è becca, a un prossimo video, o a una prossima live, ciao cari, ciao cari, grazie, ciao, ciao,